Buonasera, ben trovati al Tg Persordi. Un uomo di 88 anni, Antonio Spani, ha perso la vita a causa di un incendio divampato ieri sera per cause accidentali nel suo appartamento a Scandicci, nell'area metropolitana fiorentina. L'anziano viveva da solo nell'attico di un palazzo di sette piani nel centro della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. L'88enne, che pare non avesse allacciamento al metano, sembra che alimentasse fornelli e riscaldamento con delle bombole di gas. Alcuni vicini avrebbero tentato di salvare l'anziano quando è scoppiato l'incendio, ma non c'è stato nulla da fare perché le fiamme si sono alzate immediatamente senza lasciargli scampo. Due persone sono rimaste ferite nell'incendio che attorno a luna della scorsa notte si è sviluppato a Prato, all'interno di un appartamento di via Boni, alla periferia est della città. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre ed è stato evacuato l'intero condominio che si sviluppa su quattro piani. Uno dei due feriti, soccorsi dal 118, ha riportato alcune ustioni, mentre l'altro è stato trasportato in ospedale per un'intossicazione da fumi. Non sono ancora note le cause del rogo. Le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco hanno permesso di circoscrivere l'incendio all'appartamento. Il cadavere di un uomo di circa 60 anni, privo di documenti, è stato trovato stamani all'alba nei pressi della fermata dell'autobus di Ponte di Colle, nel comune di Cantagallo, in provincia di Prato. A rinvenire il corpo è stato un uomo che ha visto una persona riversa al suolo ed ha allertato il 118 attorno alle 6 e 30. All'arrivo dei medici l'uomo a terra era già morto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Vernio che hanno verificato come la vittima fosse senza documenti. Secondo i primi accertamenti dei militari, la morte potrebbe essere stata causata da un malore. Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, è indagato dalla procura della sua città. L'indagine si riferisce al cantiere per gli scavi sulla strada interna dentro il complesso museale della Santa Maria della Scala, in Piazza Duomo. La vicenda nasce dalla denuncia della soprintendenza di Siena. L'area è stata posta sotto sequestro. Mi prendo le mie responsabilità, ha affermato il primo cittadino. Vediamo se altri faranno lo stesso. I reati ipotizzati sono danneggiamento al patrimonio archeologico e concorso in reato. Il Santa Maria della Scala è un complesso museale che fino a metà anni Ottanta ospitava ancora dei reparti di ospedale la sua funzione precedente. La Polizia Postale di Firenze, coordinata dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli e dal sostituto procuratore Fabio Divizio della Procura Fiorentina, a seguito di una complessa e delicata attività di indagine, ha denunciato una 48enne della provincia di Siracusa per istigazione al suicidio. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della rete internet, gli investigatori della Polizia Postale di Firenze hanno individuato sul social network TikTok un link riconducibile al profilo della influencer siciliana, nel quale viene visualizzato un video ritraente una sfida tra la donna e un uomo in cui entrambi si avvolgevano totalmente il volto, comprese narici e bocca, con il nastro adesivo trasparente, in modo tale da non poter respirare. Il video, estremamente pericoloso in quanto visibile a tutti gli utenti senza restrizioni, potendo costituire oggetto di emulazione da parte di minorenni, come purtroppo già accaduto nei recenti fatti di cronaca con sfide analoghe, è stato immediatamente segnalato al servizio della Polizia Postale di Roma e rimosso dalla piattaforma TikTok. Credendo nell'amore di un uomo conosciuto su Facebook è caduta in una truffa che le ha costata 5.000 euro. Un uomo di 54 anni di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, e una donna di 44 anni della provincia di Rovigo si erano conosciuti su Facebook nell'ottobre 2019. L'uomo, fin dai primi giorni, con la scusa di essere in un momento difficile, ha iniziato a chiedere soldi alla 44enne che, senza sospettare, ha continuato a fare ricariche post-pay di 50 o 100 euro per volta. Anche quando la donna ha provato a lasciare il Pontremolese, l'uomo non si è dato per vinto ed ha iniziato a minacciarla ed insultarla sui social, fino a ottenere ancora dei soldi per un totale di oltre 5.000 euro. A quel punto la donna si è rivolta ai carabinieri che hanno ricostruito la vicenda, scoprendo che la vittima era caduta nelle mani di un delinquente seriale con altre esperienze analoghe. L'uomo dovrà restituire il denaro e rischia una condanna non inferiore a 5 anni di carcere. Ha omesso di indicare redditi per 14.000 euro nella dichiarazione sostitutiva unica per la certificazione Isee e così ha percepito per nove mesi 5.000 euro di reddito di cittadinanza. Per questo un imprenditore specializzato nella fornitura di manodopera alle aziende, residente a Firenze, dopo un'indagine della Guardia di Finanza di Siena, è stato denunciato alla Procura Fiorentina per non aver indicato dati veritieri nelle attestazioni Isee e non aver provveduto alle comunicazioni di variazione del reddito e del patrimonio, come invece previsto dalla normativa. A seguito dell'incrocio delle banche dati e sulla base delle risultanze di un precedente controllo fiscale, le fiamme gialle senesi sono riuscite a far emergere fatture emesse dal beneficiario e non contabilizzate, tali da rendere il suo volume d'affari inferiore a quello effettivo e percepire così il sussidio. Chiudiamo con le previsioni meteo, per domani molto nuvoloso o coperto con piogge sparse e locali rovesci, più frequenti sulle zone centrosettentrionali della regione, graduali schiarite dal pomeriggio a partire dalla costa, con cessazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio. Venti da ovest, sud-ovest, fino a forti sul litorale centrosettentrionale, sui crinali appenninici e zone sottovento. Mari molto mossi o agitati a nord dell'Elba, da mossi a molto mossi altrove. Temperature in ulteriore sensibile aumento con zero termico oltre i 2.000 metri di quota. È tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci a domani.